Con l'auspicio di poterci rincontrare con la nuova programmazione di interventi sulla sicurezza stradale in ambito urbano, magari dando attuazione nello specifico di alcune realtà delle indicazioni che sono state raccolte e portate oggi alla vostra attenzione, ringraziando l'ingegner Dondolini, direttore generale della sicurezza stradale, ringraziando per essere stato con noi al direttore bisogno, capo della polizia stradale e ringraziando tutti gli intervenuti, l'ingegner Iurato e gli altri, le associazioni dei familiari e delle vittime, Francesco Mitis, dell'OMS eccetera, io vi ringrazio ancora di cuore e vi auguro un buon fine settimana e anche buone vacanze, sempre state con gli occhi aperti, andate piano in questo esodo perché ci sono più rischi durante gli esodi. Grazie.